Cinque impostazioni, facili facili, si attivano con un click, ma puntualmente su tutti quanti i computer che mi arrivano in assistenza in studio sono regolarmente disabilitate. E dire che da queste dipende non solo la nostra privacy, ma anche la sicurezza del PC. Andiamo ad attivarle, va? E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Disclaimer, i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Quella gran birichina di mamma Microsoft, come sai, ci vuole tanto ma tanto bene. E nel suo volerci bene, per migliorare parole sue e la nostra esperienza d'uso, ha bisogno di raccogliere qualche informazioncina sui nostri computer. Il problema, tuttavia, è che ogni tanto le scappa un po' la mano e le informazioni che va a raccogliere sono, a mio avviso, veramente ma veramente troppe. E allora, perché non andare ad applicare queste piccole modifiche che ci fanno risparmiare banda, risparmiare risorse, migliorano la nostra privacy, migliorano la velocità del computer e soprattutto non chiedono niente in cambio? E quindi andiamo subito a vederle. Ma prima di farlo, perché non ti iscrivi a entrambi i nostri canali, se ne hai voglia, naturalmente? E poi qui sotto, se vuoi, ci sono anche tutti quanti i social della community, così stiamo vicini vicini. Proseguiamo. Un indirizzo Mac è diverso da un indirizzo IP e costituisce sostanzialmente un indelebile numero di targa che contraddistingue ogni singola scheda video del pianeta. Costituisce tuttavia anche un problema nel momento in cui qualcuno vuole individuare univocamente la nostra macchina. Per fortuna, recentemente, Windows ha introdotto una funzionalità per cui questo indirizzo viene offuscato e sostituito da altri indirizzi casuali. Ma naturalmente l'opzione è disattivata. Andiamo a vedere come attivarla. Per farlo andiamo in basso sul tasto Start, ci portiamo sulla voce Impostazioni, sul lato sinistro scegliamo Rete e Internet, quindi scegliamo Wi-Fi, la voce più in alto e qui andiamo ad attivare questa voce qui, quella che si chiama Indirizzi Hardware Casuali. Lo facciamo cliccando su questo pulsantino e accertandoci che compaia la scritta Attivato. Con questo semplice clic abbiamo risolto un sacco di problemi perché andiamo a generare un indirizzo hardware casuale sulle nostre reti Wi-Fi e Bluetooth ogni volta che ci connettiamo impediamo ai siti di tracciarci univocamente, impediamo che dei malintenzionati possano individuare la nostra macchina e naturalmente miglioriamo di conseguenza anche il nostro livello di privacy. Ma procediamo con il secondo consiglio di oggi. Quante volte ti è capitato che in questa campanellina qui in basso ti compaiano una serie di notifiche da un lato inutili, dall'altro noiose e in terzo luogo fastidiosissime se stiamo ad esempio lavorando su un'altra applicazione? Ebbene, ti mostro immediatamente come sbarazzartene per sempre. Restando sempre all'interno della finestra delle impostazioni ci sposteremo questa volta sulla voce Sistema, la seconda dall'alto. Troveremo qui all'interno proprio la voce Notifiche che andremo naturalmente a cliccare. In questa pagina disattiveremo sicuramente proprio la voce Notifiche e andremo invece ad attivare la voce Non Disturbare. E in questo modo potrai finalmente dire ciao ciao a tutte quante le notifiche fastidiose che ti compaiono in basso a destra. Continuiamo! Con il prossimo consiglio ti dico che andremo letteralmente a sbizzarrirci perché ti voglio già anticipare che ci occuperemo della voce Privacy e Sicurezza che sostanzialmente Microsoft considera un po' come se fosse il suo parco giochi personale e adesso vedrai perché. Naturalmente senza uscire dalla nostra finestra delle impostazioni cliccheremo questa volta sulla penultima voce che appunto come ti ho anticipato si chiama Privacy e Sicurezza. Qui andremo a scegliere la scheda che si chiama Generale ed è contraddistinta da questo lucchetto. Facciamo clic per aprirla e all'interno di questa finestra andremo letteralmente a rompere le uova nel paniere di Microsoft disabilitando tantissime opzioni. Partiamo con quella che si chiama Consenti alle app di mostrarmi annunci personalizzati bla 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 e andiamo naturalmente a disattivarla. Lo stesso faremo con Permetti ai siti web di accedere all'elenco delle lingue per mostrarmi contenuti rilevanti per la mia area geografica e la disattiviamo. Ancora andremo a disattivare Consenti a Windows di migliorare Start e i risultati della ricerca tenendo traccia degli avvii delle app. Un bel clic anche qui. Disabilitiamo anche Mostra il contenuto suggerito nell'app Impostazioni ed infine dovremo nuovamente occuparci delle notifiche andando in via definitiva questa volta a disattivare anche quest'ultima voce che si chiama Mostra notifiche nell'app Impostazioni. Ma non abbiamo finito perché ci rimangono ancora dei sassolini nella scarpa che ci dobbiamo assolutamente togliere. Torniamo quindi qui in alto e clicchiamo nuovamente sulla voce Privacy e Sicurezza e spostiamoci sulla voce Feedback e Diagnostica, questa qui. Clicchiamo per aprirla e al suo interno andiamo immediatamente a evitare che vengano inviati anche i dati di diagnostica facoltativi. Lo facciamo disabilitando questo switch qui. Scendiamo un po' più in basso e disattiviamo anche Esperienze personalizzate e la visualizzazione dei dati di diagnostica che tra l'altro ci fa risparmiare un bel po' di spazio sul disco rigido. Alla fine, se vorremmo, potremo anche cliccare qui e andare tramite la pressione di questo pulsante ad eliminare tutti quanti i dati che sono stati raccolti fino a questo punto. Che botta per mamma Microsoft! E non abbiamo finito perché ci spostiamo di nuovo in alto su Privacy e Sicurezza e questa volta andiamo ad aprire la cronologia delle attività contraddistinta da questo simbolo qui. Apriamola e al suo interno andiamo a disattivare la voce che si chiama Archivia, la cronologia delle attività in questo dispositivo. Naturalmente, allo stesso modo, potremo cliccare sul pulsante Cancella cronologia per fare un'ulteriore pulizia di tutto quanto. Ecco fatto. Col senno di poi, devo ammettere assolutamente una cosa, ovvero che non ho la più pallida idea di come ho fatto a scegliere il titolo di questo video. Visto che, se la matematica non è un'opinione, i consigli che ti ho dato sono decisamente più di 5. Ma va bene lo stesso. L'importante è il risultato. Ma anche un'altra cosa sarebbe importante per me, ovvero sapere quanti di questi suggerimenti già conoscevi, quanti erano già attivi e quanti erano disattivati sul tuo computer e soprattutto se hai voglia di suggerirne alla community qualcun altro che magari presentiamo in un prossimo video. Ma veniamo a noi e soprattutto veniamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi ti vedono come protagonista. Ebbene sì, infatti sono diretti univocamente tutti quanti proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Iscriviti!